Perché hai voluto arrentire dei doni dello Spirito il Beato Giuseppe Antonioni che è proposto alla comunità e federazione. Qua che è illuminante dalle sue sedi, procediamo sulle ordine del Signore, fino a che si formi in noi l'uomo perfetto nella misura piena della statura di lui. Donaci di annunziare il parone d'opera e il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Dio, fonte di ogni grazia e santità, guarda con amore i tuoi fedeli. Mi hanno preparato questa immagine del Beato Giuseppe Antonioni, amico e l'erede di Cristo, fedele e testimone del Vangelo. Donaci di sperimentare l'efficacia della sua intercessione presso il trono della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amén. Grazie. 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 Grazie.